oggi qui da yearforex voglio mostrarvi una struttura interessante di price action che si è venuta a creare negli ultimi anni su dollaro canada e che negli ultimi giorni ci ha permesso mi sta permettendo di fare un trade e quindi volevo così commentarla con voi e farvi capire i motivi per cui certe tipologie di struttura possono diventare interessanti nell'ottica di trading allora partiamo dal grafico settimanale questo qui è il cambio dollaro canada dollaro canada che è uno dei cambi che fa parte della mia lista forex quella primaria diciamo e come possiamo notare questo questo cambio rimane all'interno di un trade in range da svariato tempo infatti i primi massimi in range sono stati fatti qui a ottobre 22 per poi fare un po di ping pong da due aree di prezzo tra 1 e 38 e 1 e 33 e dopodiché proprio nell'ultimo periodo c'è stata questa rottura del 12 luglio rottura abbastanza importante e ritracciamento verso l'alto nel ritracciamento proprio due settimane fa si è formata questa che è una pin bar una barra che ha un lungo spike poco corpo va a riprendere il livello non riesce a chiuderci sopra questo 1 e 33 importante chiude sotto quindi diventa come dire una delle nostre informazioni operative per noi facciamo price action nuda che ci danno come dire la pianificazione poi per i giorni successivi infatti in questo caso si guarda sempre un grafico settimanale proprio perché il grafico settimanale che a bocce ferme il sabato la domenica quando i mercati non sono aperti ci permette di valutare in estrema nazionalità cosa fare poi i giorni dopo quindi io ho come dire valutato l'idea per uno short che in realtà guardando poi il time frame giornaliero eccolo qua è arrivata è arrivata perché quel tipo di dinamica lì è stata formata da una price action molto interessante sul daily infatti qui si è venuta a creare una trap bar eccola qua che in effetti poi viene fallita la giornata successiva esattamente venerdì 7 luglio con anche una falsa rottura dei massimi precedenti e soprattutto una falsa tenuta del livello 1.33 che se vedete lo guardiamo poi nel grafico giornaliero quindi con più dettaglio perché se prima una candela valeva 5 giorni di mercato aperto quindi una settimana qui ogni candela un giorno quindi si guarda un po più il dettaglio del movimento di swing c'è stato appunto un arrivo verso questa zona l'area 1.33 e questa zona poi è stata buttata giù con una trap bar adesso vi farò vedere anche dove sono entrato questa trap bar tra l'altro arriva a 1.33 dove c'è appunto il livello diciamo basso dell'extrading range che per un po' di tempo aveva mantenuto i prezzi all'interno di queste due bande e se noi andiamo a inserire anche andiamo a vedere di inserire ecco qua anche il pivot mensile quindi punto di pivot classico quindi formula matematica molto semplice che prende il massimo più il minimo più il prezzo di chiusura diviso 3 del mese precedente quindi comunque importante come 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 dire formula dei prezzi dell'ultimo mese ma se noi andiamo a inserirci anche pivot Pivot annuale e anche qui sempre standard guardate un po' andando a prendere il pivot dell'anno scorso troveremo che questo livello dell'1.33 è sia un pivot un yearly pivot quindi un pivot annuale e sia un monthly pivot quindi un pivot mensile 1.33 17.03.09 area 1.33 diventa l'area di pivot quindi questo qui era una bellissima è una bellissima price action che si è creata che mi ha permesso di fare dei trade anche in alcuni conti che io ho e che al momento ho a mercato infatti ho questo trade qui dollaro canada ce l'ho assolutamente guardate eccolo qua entrata qui sul su questo conto che tra l'altro condivido anche con gli utenti platinum in realtà se guardiamo bene guardate vi faccio vedere c'ho anche questo c'ho anche questo trade su con i turbo 24 quindi quei certificati turbo simili sono entrato praticamente nel simil modo sono entrato con leggermente più rischio qui rispetto all'altro però qualcosa quindi ho valutato questa operazione da inserire in più conti con il movimento che si sta venendo a verificare che vorrei andare a targettizzare anche sull'altro conto a 1.30 80 poi adesso vediamo qui se ci va che cosa fa perché se mi fa un doppio minimo ovviamente uscirò prima quindi qua avrò anche la possibilità di iniziare un certo tipo di dinamica di gestione dell'operazione se andiamo a prendere il grafico a 6 ore per esempio eccolo qua noteremo come il grafico a 6 ore mi porta ad avere una conferma operativa che si è venuta a creare dopo che il daily ha fatto questo subito successivamente il lunedì vedete c'è stato un ritracciamento dopodiché la candela del 10 di luglio alle ore quindi sempre lunedì tra le 13 e le 19 ha fatto questa indecision bar con un lieve ritracciamento alla rottura che era poi la rottura del setup 1.32.64 un altro insight si è creato il movimento qui addirittura se guardiamo il 6 ore si è creata anche un'altra conferma di price action la notiamo qui vedete questa barra che va a ricercare i massimi precedenti la ributta giù quindi addirittura qua si poteva anche vedere di incrementare ma è ovvio che qui io ero appena entrato e quindi non è che avesse molto senso prendo questo ok prendo la rockana standard che non ho operazioni così la vedo meglio a livello operativo poi se guardiamo anche il 4 ore quindi se vogliamo vedere proprio i due time frame più bassi del daily ma non andiamo più giù sapete che questa è un po' la tipologia di training che faccio vedete comunque la price action c'era anche su un time frame un po' più basso 4 ore quindi diciamo che come possiamo notare questa è una price action assolutamente chiara imponente che ci fa anche capire come il trading bisogna mantenerlo semplice non serve andare a incasinarsi la vita con chissà quali strategie poi ognuno per carità fa il suo però anche mantenendo le cose semplici lavorando sul forex dove tutti quanti dicono ah il forex mercato non regolamentato è il mercato manovrato e tutte queste cagate perché possiamo dire proprio così sono tutte cavolate tutti alibi perché probabilmente non si riesce a guadagnare da questi mercati invece manteniamo le cose semplici guardiamo i giusti punti di entrata e di uscita se un mercato dopo che siamo entrati non ci mostra quello che vogliamo vedere usciamo con delle piccole perdite mentre quando il mercato ci dà come dire ci dà la direzione che noi avevamo pianificato allora si cerca di cavalcare di gestire al massimo lavoriamo sulle cose semplici queste false rotture in questo caso la trap bar pivot mensile addirittura più annuale livello importante trading range rotto tutte situazioni che nella struttura di chi fa il price action vengono ovviamente osservate approfondite e spesso tradate perché danno assolutamente statisticamente danno delle buone danno dei buoni risultati poche operazioni ma di qualità bene anche per oggi è tutto io ovviamente vi chiedo di lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto di iscrivervi a questo canale se non siete ancora iscritti a questo canale per il momento tutto noi ci vediamo al prossimo video un saluto